Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra trasmissione tra le righe. Stasera una sorpresa per voi. Abbiamo l'onore di avere qui con noi lo scrittore Marco Scaldini. Montecatinese, nato a Montecatini, ha vissuto sempre a Montecatini, quindi... Montecatinese doc. Doc. Stasera vi presenta Volevo parlare ma poi ho scritto appunti banali sulla scuola. Stasera bisogna parlare invece che scrivere. Di che cosa parla questo libro? Questo libro è il mio ultimo libro sulla scuola, ultimo in tutti i sensi, perché ultimo tipograficamente, l'ultimo uscito e penso anche quello definitivo, vale a dire dopo questo di libri sulla scuola credo di non scriverne più, perché ho cercato, ne ho scritti altri prima, e qui ho cercato di riassumere un po' tutto quello che era il mio pensiero sulla scuola. Infatti alla fine c'è anche una piccola antologia di estratti dai libri precedenti sulla scuola. e sempre con lo stesso taglio, con lo stesso punto di vista, di fare delle riflessioni però dal punto di vista comico e quindi chiudere con questo libro il mio discorso sulla scuola che è iniziato nel 2009 con il primo libro e che con questo del 2021 dovrebbe essere giunto alla fine. Non smetterò di scrivere però sulla scuola credo di aver detto abbastanza. Ok. Possiamo darci del tu? Certo. Allora, guarda, volevo leggere ai nostri telespettatori alcune tue chicche. A pagina 91 ce n'è una che mi ha colpito in particolar modo. Siamo all'esame, immagino, e l'11 settembre ci fu l'attacco alle Torri Gemelle da parte dei, come si chiamano, tali, tale, ah sì, teletubbies. Ecco, queste sono una delle tante perle che tu hai raccolto. Sì, è un'attività diventata quasi un secondo lavoro nel corso degli anni perché la produzione è sempre abbondante come saprai anche tu essendo insegnante e quindi invece di lasciarle correre ne ho fatto un'enciclopedia. Bene, è un modo anche per vivere in maniera ironica e più leggera la scuola. Allora, ne ho trovato un'altra. Interrogazioni, parte seconda. Affrontiamo ora la questione meridionale. Qual è il problema principale del mezzogiorno? Il fatto che a quell'ora tutti tornano a casa per mangiare e si crea caos nel traffico. Anche questa è una chicca molto carina. Senti Marco, hai vinto anche dei premi. Qual è stato il primo premio che hai vinto? Se non ricordo male, ne ho vinti diversi perché soprattutto con i racconti. Mi piace scrivere i racconti, siccome i racconti trovano poco sbocco a livello editoriale perché gli editori preferiscono i romanzi. E allora con i racconti si partecipa ai concorsi. E quindi io scrivo racconti di genere, gialli, fantascienza. Ho vinto diverse volte un premio per il giallo che si svolgeva a Cosseria in Liguria e poi nel corso degli anni altri. Ultimamente la settimana scorsa a Sesto Fiorentino per il giallo fiorentino. Nel corso degli anni ne ho collezionati un po'. Servono come divertimento anche quelli. La soddisfazione di vedersi riconosciuto o qualche cosa. Insomma, divertimento. Chi ti riconosce per la strada, Marco? Ah, per fortuna nessuno. Per fortuna nessuno. Io da quel punto di vista scrivo, come dice il titolo del libro, proprio perché preferisco nascondermi un po' dietro alla pagina scritta che non mostrarmi in pubblico. Ecco, quindi ho fatto quasi un'eccezione per te, però ecco, in generale non è il mio pane. E io ti ringrazio tanto per l'eccezione. Un'altra domanda. Marco Scaldini, quindi professore. Cosa insegni, Marco? Insegno inglese. Quindi insegnante di inglese e scrittore. Cosa pensano i tuoi alunni di te? Ma in genere, come tutti gli studenti, la prima cosa che fanno è cercare su Google i nomi dei loro insegnanti. Quindi scoprono così che ho scritto dei libri e mi chiedono, fanno delle domande al riguardo. Io anche su questo ho scritto proprio una paginetta, su questo fatto degli studenti che chiedono all'insegnante cosa sia scrivere dei libri. Ok. Tra l'altro l'avevo anche cercato che ti chiedevano dello stipendio. Sì, stringi, stringi quello che gli interessa di più. Cos'è? Dice, professore, ma quanto si guadagna a scrivere dei libri? Perché più che, diciamo, il libro è un oggetto abbastanza estraneo per la maggior parte degli studenti e quindi lo pensano un po' come, soprattutto come veicolo di guadagno. Quando poi scoprono che con i libri non si guadagna assolutamente niente, anzi, forse si rimette un po' di tempo e fatica, diciamo che tramonta il loro interesse. Invito. Voglio leggere quello che hai scritto tu. Una volta appreso che si tratta di attività non arricchente, tirano un sospiro di sollievo. Possono tornare a considerarmi uno sfigato. Secondo me non lo sei, Marco, uno sfigato. Grazie per essere stato qui con noi. Io saluto i nostri telespettatori, do l'appuntamento a lunedì prossimo. Ciao, un bacio. Ciao, un bacio. Ciao, un bacio. Ciao, un bacio. Grazie a tutti.